da una certa distanza sempre dai 20-30 cm più o meno ti ricordo che sto utilizzando bombolette spray al base di acqua. Hello my friends, welcome to my channel. My name is Mauro Sposito and I am spray paint artist. I hope you can enjoy my artwork. If you like them please subscribe to the channel and click on the bell to receive notification of new video. Thank you. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.